Grazie Presidente. Era solo per ringraziare delle persone italiane che in questi momenti stanno vivendo attimi di agitazione. Poco fa è atterrato su Marte una sonda che fa parte di un progetto europeo e russo, dell'Agenzia Spaziale Europea e Russa, ma ha fatto quasi in gran parte in Italia da aziende italiane. Credo che sia il caso di elogiare questi lavoratori, dagli operai ai tecnici, agli scienziati che hanno lavorato per anni per raggiungere questo importante risultato per l'umanità. Talesse Lenia Space, Leonardo Finmeccanica, l'Osservatorio Astronomico di Napoli, l'Università di Padova, l'ASI e l'Istituto di Fisica Nucleare Nazionale. Credo che sia importante ricordare anche questi successi internazionali del nostro Paese che faranno la storia dell'umanità. Grazie. La ringrazio, Onorevole Baradello. Abbiamo così concluso gli interventi di fine seduta che, ricordo, dovrebbero avere una qualche attinenza anche con i temi nazionali e con l'attività parlamentare. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 21 ottobre 2016, ore 9.30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta. Grazie. Grazie. Grazie.